Rambo The Video Game è un prodotto completamente fuori dal suo tempo. È come se oggi, con quasi 25 anni di ritardo, si presentasse sugli scaffali un titolo del 1990. L'intero comparto grafico, la sua natura su binari, la stessa filosofia, ossia quella del tie-in affrettato e a tutti i costi, sembrano non appartenere più alla contemporaneità. Brutto all'inverosimile, ingiocabile e tremendamente buggato, il gioco è una pietra migliare del trash, un fallimento su tutti i fronti, un'enciclopedia dell'orrido. Rambo The Video Game ripercorre la storia dei primi tre film, per intenderci quelli datati anni 80, e snobba completamente il sequel del 2008. Probabilmente gli sviluppatori, così come altri fan del personaggio, hanno trovato l'ultimo seguito francamente imbarazzante e hanno deciso di non considerarlo parte del canone. Una decisione che forse cozza un po' con quella di produrre un videogame destinato a tormentare i sogni dei fan molto a lungo. Partiamo quindi dal presupposto che produrre uno shooter su binari oggi è piuttosto folle. Se c'è un bel modo di godere degli sparatutto guidati è proprio puntando qualcosa allo schermo, non certo torcendo gli analogici del pad. Dal punto di vista del gameplay non si segnalano grandi novità rispetto alla media del genere. Accompagnati dalle cutscene si passa da un punto d'azione all'altro, eliminando le minacce e accumulando punti. In Rambo, oltre a poter entrare in copertura, si può ricaricare l'arma con un sistema che strizza l'occhio alla ricarica attiva di Gears of War. Quando ci si troverà in difficoltà con il livello di salute, se si saranno accumulati sufficienti punteggi con le eliminazioni, sarà possibile attivare la furia. Con un grido strappato dalla traccia audio di uno dei film potremo massacrare tutti al rallentatore e recuperare vita per ogni eliminazione. Quando non si spara, in Rambo si guarda la bruttissima copia dei film originali, con alcune sequenze riprodotte quasi al millimetro, altre invece un po' modificate, intervallate costantemente da quick time event assolutamente casuali e fuori contesto. In certi casi sembra che gli sviluppatori abbiano provato a variare leggermente la formula di gioco con qualche sequenza stealth e un sistema di perk da sbloccare, ma il bilanciamento è semplicemente inaccettabile, considerando anche i picchi di difficoltà nell'ultima parte. E veniamo al comparto tecnico, il quale sorprendentemente si fa notare per un design assolutamente fedele a quello dei film. I fan si divertiranno a scovare alcuni dettagli interessanti, e questo probabilmente rimane l'unico merito degli sviluppatori. Peccato che questo design riuscito sia affiancato a un lavoro grafico proveniente più o meno dall'epoca dei film. Non ci sono molte parole da spendere, se non che alcuni clamorosi episodi di sparizioni all'interno di pareti e raggedoli impazzite sono riusciti a strapparci qualche momento di larità. Questo gioco purtroppo non riesce nemmeno ad essere un omaggio a Rambo. È uno shooter on-rail brutto, che cerca di trarre in inganno quegli screenshot sul retro della scatola, riuscendo nell'ammirabile impresa di far innervosire il giocatore ancora prima dell'apertura. Non siamo neanche dalle parti della tragicomicità, dato che la piattezza del gameplay e l'assoluta mancanza d'ambizione non hanno nemmeno permesso al gioco di diventare involontariamente ridicolo.